e parte il gameplay di hackatone dopo un merito e tassativo me ne f***o oh ma questo non sta con noi cazzo ma voi state con me? si io si in casa ci stanno tre nemici in casa tre nemici e occhio io sono armato ma tre in casa ce n'ho e adesso vengono qua da me per uccidermi lo sento i miei gangli ma sono da solo? alla casa la casa t'ho detto sono arrivato in tre Christian che fai? io non sto bene ragazzi qui da solo mi rascia mi stanno rasciando in tre mi rasciano in tre ragazzi mi rasciano in tre orca miseria chi è? oh cazzo ah ero io mi son messo paura da solo per la cattiveria ragazzi ce ne stanno più sono finiti cazzo andate a f*** mi son messo paura mi son messo una paura terribile la graffa è da cattone no ma c'era uno che se lamentava che stava in casa da solo con questi chi è che ha detto in casa in casa andiamo in casa non eri tu maledetto minchione vabbè c'ho il video c'ho il video poi vediamo massimo così te lo vedi magari oh questo è un genio in casa ti impari un po' a giocare ma che te devo fare parole grosse senti chi è che ha rasciato? chi è massimo? no che rosicone dai